Ora che al mondo c'è questo problema, bisogna capire, bisogna capire che si deve stare calmi, che si deve stare calmi, che si deve stare calmi, in questo momento qui la cosa essenziale è rimanere calmi e attenersi alle regole del governo. Bisogna comportarsi nel migliore dei nuovi, bisogna rispettare le regole, rispettando la vita degli altri. Rispettando la vita di tutti, rispettando la vita degli altri. Rispettando la vita di tutti, rispettando la vita degli altri. Rispettando la vita degli altri. Rispettando la vita di tutti, rispettando la vita degli altri. Grazie a tutti.